Non un semplice museo, né una normale mostra d'arte, ma un intero straordinario territorio che si mette in mostra. È lo scopo del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale locale intitolato Capolavori in Valtiberina tra Toscana e Umbria, da Piero della Francesca a Burri e la Battaglia di Anghiari. Promossa da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regioni Toscana e Umbria, da domenica 16 giugno fino a domenica 3 novembre, l'iniziativa mette in rete un intero sistema coinvolgendo diverse competenze e professionalità. Il progetto è stato presentato oggi a Firenze nella sede dell'Ente Cassa di Risparmio, alla presenza fra gli altri di Antonio Paolucci, presidente del Comitato Scientifico Piccoli Grandi Musei. È proprio un percorso attraverso luoghi che si chiamano Borgo Sansepolcro, Anghiari, Città di Castello, cioè la patria di Piero della Francesca, di Raffaello, di Leonardo da Vinci. Tra le opere proposte è la Tavola Doria, che raffigura una scena dell'affresco di Leonardo dedicato alla battaglia di Anghiari e che per la prima volta viene esposta nel centro medievale presso cui avvenne lo scontro. La rappresentazione della battaglia nel luogo e nella città della battaglia. I visitatori avranno inoltre la possibilità di usufruire di itinerari enogastronomici e dell'artigianato, attività per famiglie, laboratori per bambini, tour in pullman, pubblicazioni ad hoc, oltre ad uno speciale pass con sconti e facilitazioni, in 35 musei ed in oltre 80 esercizi commerciali. Grazie